Prima battaglia vinta dai 30.000 firmatari della petizione dalle 300 associazioni ambientaliste che avevano detto no al taglio della riserva naturale del Borsacchio. La regione con due delibere ha ammesso che per ridisegnare i confini dell'area è necessario un tavolo di concertazione. Nel frattempo i territori che erano nei confini originali della riserva vengono sottoposti ancora alle norme transitorie, cioè quelle famose norme che bloccavano tutto sia l'attività di ristrutturazione ma anche le attività naturalistiche. Ad esempio noi abbiamo 18 progetti fermi al palo in attesa del famoso PAN. Gli ambientalisti sono contrari alla costituzione di una commissione paesaggistica che la regione ha annunciato perché significherebbe ritardare di anni lo sviluppo della riserva. La cosa fondamentale è che con questa commissione paesaggistica stiamo ovviamente approfondendo il tema con tutto il team delle altre associazioni legali. Ovviamente anche qui noi riscontriamo dei problemi in queste delibere che stiamo valutando. La commissione paesaggistica si occupa di edilizia, di costruire nelle aree vincolate paesaggisticamente, ma il vincolo paesaggistico e il vincolo ambientale sono due cose diverse e per rimuoverlo non basta una commissione paesaggistica. Ora quello che noi diciamo insieme a tutti quanti è facciamola partire. Il PAN è stato pronto. Il problema fondamentale è che mancavano le regole su come fare le cose. Adesso queste regole sono pronte.